Signor Ciccolino, lei è un operatore commerciale di via Garibaldi, ma sul retro del palazzo dove lei ha il suo negozio ci sono dei parcheggi che sono in un'area privata. Ha ricevuto una multa, come mai? Qualcuno del condominio ha chiamato, chiaramente perché ho messo una macchina qui, vede, lì c'è scritto riservati i condomini, io pago il condominio e ho messo la macchina qui, è in una proprietà privata. È arrivato il vigile, voglio dire in 15 anni che lavoro qui, è arrivato il vigile e ha fatto la multa, sia a me che alla macchina di mio figlio. Allora io dico, loro i vigili possono fare la multa su una proprietà privata? Io penso di no, perché ho chiesto, dopo ho fatto la multa, sono andato al comando, il comando mi ha detto che devo andare alla ricerca del vigile, come io ho un'attività, devo lavorare, devo andare alla ricerca del vigile, ma non è il lavoro mio, giusto? Loro mi devono dare una risposta, la posso mettere o non la posso mettere? Ha fatto una chiamata, ha chiamato da un'altra parte, non so a chi, la risposta è stata che la multa è giusta. Adesso ho richiamato un altro vigile, ma ha detto che la multa non è giusta, allora io cosa faccio? Va bene, non va bene, ce la metto, non ce la metto, ogni volta che ce la metto mi fanno la multa. Io voglio sapere, su una proprietà privata i vigili possono fare la multa? La domanda mia è solo questa. Perché quest'area qui è di proprietà del condominio? Del condominio, dopo io se ce la posso mettere o meno con i problemi del condominio è un altro discorso, ma non è il vigile che mi viene a fare la multa, poi io trasporto i preziosi, mi muovo dieci volte al giorno del negozio con i lavori, con quella roba lì, per me è anche un discorso di sicurezza, perciò io sto qui ce la metto mezz'ora, un'ora poi rivado via, qui invece nel parcheggio c'è gente che ce la mette per le settimane, per dieci giorni, per venti giorni e la macchina non la sposta mai, è un parcheggio all'aperto, privato.